Si sono incatenati davanti alla sede della Cassedile di Catania in via Francesco Gallo i 12 lavoratori licenziati della Cooperativa Ionica 2001 e a fine mese annunciano andranno a casa altri 15 colleghi. Quasi uno strano scherzo del destino alla loro storia perché tre mesi fa erano andati a festeggiare dopo che la cooperativa si era giudicata all'appalto per la realizzazione della nuova sede degli enti paritetici a Catania, un cantiere del valore di circa 8 milioni di euro e che significava lavoro per due anni e assunzioni almeno per altre 70 persone. Qualcosa però blocca l'avvio della commessa e allora l'amministratore Filippo Calvagno ha dovuto licenziare. Dicono che ci sono delle irregolarità però i DURC me l'hanno firmato. Sto lavorando al Tribunale di Messina, sto lavorando a Mercato di Catania, stiamo lavorando in altri posti. Mensilmente il Presidente Civis del DURC non so dove trovano le irregolarità. L'unica irregolarità, sapete qual è quella? Che in un momento di difficoltà abbiamo messo, scelto di fare lavorare le persone part time per non mandare nessun padre di famiglia a casa. Invece di portare 1200 euro a casa ne portava 700, 800, ma li portava. Questo è quello che ci accusano. Il sindacato è quello che ci accusa e questo. Sembrano esserci delle irregolarità nella giudicazione che è ancora provvisoria. Il Vice Presidente della Cassa Edile, nonché il rappresentante sindacale della Filca Cisle, Gavino Pisano, risponde alle accuse e promette l'impegno a trovare soluzioni immediate. Non è vero che comunque non si è deciso a monte. Chi dice questo dice una grande vesseria. Credo che comunque, perché la domanda è questa, in un giro di 15 giorni la Cassa Edile è in grado di poter decidere. Credo che la Cassa Edile e il Consiglio di Amministrazione, in un giro di 15 giorni noi dobbiamo essere serenamente, dobbiamo avere le carte a posto per decidere se questa azienda farà l'appalto oppure se ci saranno fatti diversi.